Quando Gigi Riva tornerà non ci troveranno ancora qua, con la vita in fallo laterale, il sorriso fermo un po' a metà, tornerà la voglia di sognare quando Gigi Riva tornerà. Questo è Piero Marras. Quando Gigi Riva tornerà dal disco Marras pubblicato dall'EMI nel 1982, noi siamo nella seconda parte di almeno due pagine al giorno e abbiamo ancora Piero Marras sotto le nostre parole per parlare di Gigi Riva che ci ha lasciato da qualche giorno. Ma per farlo io sono veramente molto contento e ringrazio anticipatamente Andrea Pavan per aver accettato l'invito a partecipare a questo appuntamento di almeno due pagine al giorno. Ciao Andrea, intanto buongiorno, bentornato e ben arrivato su RBA. Buongiorno a te, buongiorno a voi e grazie a voi di avermelo chiesto. Allora Andrea, vedo che sei in compagnia di Uzo, mi permetto anche di chiamarlo per nome perché la narrazione di questo meraviglioso animale insomma appartiene anche al tuo storytelling quotidiano, così direbbero diciamo quelli bravi. Ma intanto però oggi Andrea siamo qui a raccontare, ricordo Andrea Pavan, vice caporedattore di Tutto Sport, Gigi Riva che ci ha lasciato il 22 gennaio. Intanto faccio vedere la prima pagina del numero di Tutto Sport di martedì 23 gennaio, l'angelo azzurro con un meraviglioso Gigi Riva in prima pagina. Tu hai scritto un articolo che fa parte anche di una serie di articoli di quel numero di Tutto Sport che incrocia fortissimamente anche come dire le cose di cui ci occupiamo tutti i giorni qui ad almeno due pagine al giorno. Canzone, libro, film, teatro, lui era arte, il titolo del pezzo che hai scritto qualche giorno fa. Allora Andrea intanto entriamo subito in partita, insomma scusami la metafora, per dire insomma anche a chi, tra i giovanissimi che ci ascoltano, chi è stato, chi era Gigi Riva, Andrea? Io guarda, la prima cosa che vorrei dire, al di là di entrare nel merito di chi sia stato Gigi Riva, che è stato anche spiegato da gente più competente e importante in questi giorni, io hai fatto vedere quel giornale e quel numero di Tutto Sport è un numero al quale io credo resterò legato per molto tempo perché voi non avete idea di quanto sia difficile prendere determinate decisioni in determinati momenti, soprattutto quando in pochissimo tempo come l'altra sera perché la notizia della morte di Riva è arrivata intorno alle 8 di sera e per un giornale che ha mille tipi di vincoli legati alle notizie ma legati anche alla pubblicità, legati a determinate scansioni di lavoro che si erano predisposte durante la giornata, ecco, in due secondi ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso, oggi la prima pagina è solo per Riva e quel giorno c'era la Supercoppa, c'era la Juventus che per Tutto Sport è veicolo trainante quotidianamente, c'erano le notizie del Torino, c'erano le notizie del mercato, c'era il tennis, abbiamo detto, oggi non ce n'è per nessuno, Riva è Riva e si fa una prima pagina come, no, spesso viene idea, vengono citate quelle dell'Equipe, le famose pagine monotematiche, questo per dire che è qualcosa di stato, qualcosa di particolare, Riva è diventato qualcosa di particolare, anche la sua morte, ce ne siamo resi conto guardando i funerali ieri in diretta, questo afflato popolare che onestamente non credo si sia mai visto per un campione del calcio, per quanto magari anche con partecipazioni numeriche superiori, però ragazzi uno come Gigi Riva non c'è mai stato, non c'è mai stato come calciatore, perché un giocatore di pallone di quel livello lì, un attaccante così ce lo potremmo credo scordare per sempre, non è un caso che il record di gol in nazionale rimanga il suo, chissà per quanto lo rimarrà e io ve lo dico, io spero lo resti per sempre, perché non c'è un'impresa calcistica di oggi che possa equipararsi al peso specifico di 35 gol in 42 partite in nazionale, quando la nazionale giocava, se va bene, un quinto o forse un decimo delle partite che gioca oggi, le giocava in contesti quasi sempre agonisticamente più importanti, in un calcio molto più tecnico, in un calcio dove le partite duravano forse 30 minuti di tempo effettivo, dove volavano delle botte che oggi, altro che dar, oggi probabilmente certi giocatori non arriverebbero neanche al decimo minuto del primo tempo, Riva di queste botte era come dire il collettore principale e io davvero credo che in quella cifra ci sia tutta la grandezza di Riva, poi vabbè tu hai citato quell'articolo che ho scritto, per me è stato, diciamo ho dovuto sui due piedi improvvisare un articolo sapendo che le cose cosiddette istituzionali sarebbero e doveristiche sarebbero già state raccontate da altri nelle pagine precedenti, io in due minuti ho dovuto trovare una chiave di lettura per fare un pezzo su Riva un po' diverso e mi è venuto in mente come davvero forse non sia mai esistito un calciatore di pallone che in vita abbia suggerito, ispirato così tante opere d'arte in così tanti settori diversi, allora ho trovato questa chiave di lettura pensando al fatto che anche esteticamente per come giocava, per come colpiva il pallone, per come si presentava, Riva era in se stesso un'opera d'arte. Era assolutamente un'opera d'arte, canzone, romanzo, cinema e teatro, l'arte in rovesciata e insomma il pezzo ha ispirato più opere che vinto trofei, eccola la grandezza, ma insomma qui parliamo di ispirazioni diciamo davvero a 360 gradi dalla letteratura alla musica, al cinema, al teatro insomma. Guarda, ti ho tenuto a sottolineare, è un'idea mia ma credo non solo mia, in un calcio, in un mondo in cui davvero oggi più che mai sembra che l'unica cosa che conti sia il successo a qualunque costo o comunque diciamo per successo io intendo vincere, avere, possedere. Il successo per me è un'altra cosa, il successo per me è sfruttare i talenti che la vita ti offre, non li offre a tutti in maniera uguale. La vita sa essere democratica ma anche molto crudele da questo punto di vista, però quello che è importante è l'utilizzo che tu fai dei talenti che ti vengono dati dalla natura. Ecco, Riva, anche se poi alla fine noi andiamo a guardare, Riva cosa ha vinto? Ha vinto uno scudetto e un campionato europeo. Il peso specifico come i suoi gol in nazionale di quello scudetto è incommensurabile, vale decine di scudetti, lasciatemelo dire, di altri giocatori vinti altrove e perché? Perché lo ha vinto Cagliari, ma non perché Cagliari valga di meno, anzi Cagliari vale molto di più di altre piazze calcisticamente parlando, ma perché vale di più? Perché Cagliari è una scelta, è stata una scelta di Riva, non è stata una condizione, Cagliari non è, scusate, Riva non era sardo, Riva è diventato sardo, ha scelto di essere sardo perché si è innamorato di una terra, di un modo di porsi, di condividere le cose, di trasmettere le cose che gli ha dato la gente quando lui è arrivato ragazzo, riottoso, perché lui era spaventato dall'idea di andare in Sardegna in quegli anni, era un ragazzino, aveva avuto un'infanzia tremenda, Riva gli sono morti i genitori che erano piccolini in maniera tragica, gli è morto una sorella, ha fatto dei lavori da persona, come si diceva una volta, no? I lavori veri, è vero che in quel periodo lì i calciatori erano anche un po' in tanti accomunati da aver fatto mestieri tra virgolette normali, però Riva raccontava questa cosa meravigliosa. Non sentiamo più, non ti sento più. Tanto ci siamo persi un attimo Andrea Pavan che non sentiamo e probabilmente insomma c'è un problema tecnico intorno alla conversazione rispetto all'audio di Pavan, ma io intanto provo a prendere le misure. Ecco sta tornando perché insomma non ti ho sentito per... Prego, 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 ma insomma stavo dicendo soltanto che poi lui ha accettato di andare a Cagliari nonostante le sirene suonassero molto forte da Milano, da Torino, insomma Inter, Juventus, no? E' per questo che Riva era amato da tutti. Riva è stato amato anche dai tifosi di quelle squadre nelle quali lui ha rifiutato di andare, non ha rifiutato perché odiasse questo, odiasse quello. Lui ha detto no perché amava, non perché odiava. Lui ha detto no perché amava Cagliari e lasciatemelo dire, in questi giorni sono stati fatti alcuni paragoni parlando di bandiera, no? Viene sempre facile un po' cadere sulla rettorica in questi casi. Allora si è citato Totti, si è citato Del Piero, si è citato Maldini. Non è stata la stessa cosa Riva. Non è stata la stessa cosa prima innanzitutto perché erano anni completamente diversi ed era molto più difficile, i calciatori guadagnavano molto di meno la differenza tra quello che a Riva avrebbe dato la Juventus o l'Inter e quello che lui aveva a Cagliari. Era clamorosamente più grande e poteva stravolgere la vita più di quanto. Non è che Maldini sia rimasto a giocare con tutto rispetto nel pizzighettone e Totti stava alla Roma, Del Piero stava alla Juventus. Riva ha scelto Cagliari e con orgoglio rivendicava. Questa frase è stata molto citata in questi giorni e è diventata emblematica quando lui diceva ci davano dei pastori e dei banditi e noi gli abbiamo dimostrato che anche a Cagliari in questo modo, giocando come in una famiglia, si poteva diventare campioni d'Italia. Io davvero, io sono sempre stato del Torino, non ho timore a dirlo. So che cosa vuol dire vincere per queste squadre in determinati contesti? Il valore dello scudetto del Cagliari, di quel Cagliari di Riva, credo che non abbia uguali o forse davvero pochi nel mondo del calcio e dello sport. Ecco Andrea, tu hai citato anche nel tuo pezzo un film di Riccardo Milani, Nel nostro cielo un rombo di tuono, oltre al libro di Gigi Garanzini, mi chiamavano rombo di tuono. Questo insomma per restare nell'ambito, se vogliamo, culturale perché insomma volendoci mettere dentro anche altri, insomma nel mondo culturale molti hanno citato in passato diciamo lo stile, la classe di Gigi Riva, Pierpaolo Pasolini, Giovanni Arpino, insomma anche l'amicizia con Fabrizio De Andrea è un'amicizia importante. Volevo portarti qui ma volevo anche un tuo parere su questo, in questi giorni ho anche, sono tornato un po' su YouTube per esempio per cercare alcune interviste di Gigi Riva, insomma ne ho trovate davvero molto poche ma quello che mi ha colpito ancora una volta è l'eleganza, la nettezza, il fascino delle parole diciamo di Gigi Riva, insomma a me ha colpito e ha sempre colpito ma anche da adulto, anche da dirigente della Nazionale, diciamo questa pulizia, lo so che sembra retorico ma insomma vorrei condividere con te questo pensiero Andrea? Intanto Riva era clamorosamente bello, era bello come uomo, era bello come figura, era bello per come si poneva, l'altro giorno il mio collega Marco Bonetto ha fatto un'intervista a Pulici e Pulici grandissimo bomber ma non paragonabile a Riva perché nessuno è paragonabile a Riva, lo è stato per quanto l'amore che ho per Pulici non sia pari a nessun altro però Pulici ha ricordato al di là degli aneddoti personali l'esultanza di Riva ma ve la ricordate? La bellezza acciutta, semplice, essenziale dell'esultanza di Riva, non faceva sceneggiate, smorfie, dediche strane, lui alzava le braccia al cielo guardando il cielo, guardando i suoi tifosi ed era come per dire questa gioia che sto provando adesso la sto dando a voi e vostra e sì io l'ho ritrovata questa cosa bellissima nelle parole del figlio di Riva ieri al funerale quando ha detto quanta gente ci ha ringraziato in questi giorni per aver avuto un padre così e invece noi ci siamo sentiti di dover dire grazie alla gente per il bene che ha voluto nostro padre perché la gente sentiva questa normalità umana che poi diventava straordinaria nel gesto atletico e tecnico di Riva e questa è stata la grandezza di Riva in quell'articolo che tu hai citato e facendomi molto piacere perché l'ho scritto davvero come si dice col cuore come poche altre volte accade e io ho cominciato parlando delle partite di calcio che si facevano da ragazzini quando noi eravamo piccolini la frase chi ti credi di essere Riva era clamorosa perché all'epoca tu lo potevi dire di Pelé o una cosa di questo genere se guidavi la macchina ti credi essere Niki Laudas correvi Mennea o Panatta Tennis ma siamo lì quelli sono i nomi e Riva era entrato nell'immaginario collettivo e dicevo prima lo hanno amato anche i tifosi delle squadre dove lui non ha voluto andare perché lui era elemento che univa sempre e non è mai stato divisivo neanche per ragioni di tifo e il campanilismo in Italia era già forte in quegli anni e non è che è nato non è che sia nato oggi per quanto riguarda le opere d'arte e al netto che possono essere più o meno importanti però la grandezza di Riva è stata quella di averle ispirate in vita molti protagonisti dello sport hanno ispirato magari canzoni libri documentari però sai sempre in morte di in celebrazione di qualcosa Riva è diventato figura assoluta meritevole anche di avere uno stadio intitolato a lui e quanto prima questo accadrà a Cagliari in vita e questo dà l'idea della tipicità anche della sua figura. Ecco per chiudere Andrea insomma calciatore di tutti si legge un po' dappertutto rispetto a Gigi Riva è come canta Piero Maras nella sua canzone quando Gigi Riva tornerà la partita ricomincerà grideremo insieme Italia Italia e patetico non sembrerà stretti in questo sogno che ci ammalia quando Gigi Riva tornerà. Insomma Dio sa quanto abbiamo bisogno anche di questo tipo di coesione se vogliamo no anche a livello di tessuto diciamo nazionale insomma Gigi Riva incarnava proprio questa figura mai divisivo mai una parola di troppo insomma davvero mi verrebbe da dire un uomo d'altri tempi anche se questo non suonasse troppo retorico Andrea. Quello che stai dicendo Riva lo ha incarnato nel vero senso della parola sulla propria pelle perché Riva la nazionale ha lasciato dei pezzi di osso e Riva la nazionale ha sostanzialmente interrotto la sua carriera e per la nazionale Riva ha sicuramente avuto gloria ma anche ha avuto meno possibilità poi di vincere. Sai oggi tu parlavi dell'importanza di sentirci anche un po' in qualche modo uniti e rappresentati da un campione io non credo che tornerà più quel tipo di trasporto sia popolare sia di motivazione fortissima nei giocatori che aveva Riva come avevano altri hanno avuto altri campioni nella storia della nazionale però di qui alla situazione di oggi in cui sembra a volte che i giocatori della nazionale ti facciano un favore a rispondere di sì alla convocazione del CT credo che un pochino ce ne passi Riva davvero ma poi ma poi era onestamente anche io voglio evitare di non tanto di cadere nella retorica ma nel no quando si stava meglio una volta ai nostri tempi e tutto ma ragazzi ma riguardatevi la bellezza di quella maglia azzurra come era bellissima la maglia del Cagliari come tutto anche da un punto di vista estetico fosse fosse più bello coinvolgente per me estetica ed estetico sono parole belle e importanti non è il fascino del superfluo non è come dire il trionfo dell'apparenza come ho inteso oggi ma è la bellezza del gesto Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di bellezza da trasmettere in qualsivoglia campo Riva era bellezza davvero in tutto ho scritto anche quando fumava che non è sicuramente un esempio politica li corre però è la verità Riva Riva sembrava un attore ed era forse la persona che meno di tutti recitava come scriveva anche Carlo Bordone qualche giorno fa c'è una foto con Pulici insomma sembrano attori usciti dal dal cinema della nuova Hollywood dell'inizio degli anni settanta Riva tenne praticamente a battesimo Pulici giocatore perché sentiva che c'era una bellissima affinità poi Pulici è molto onesto nel dire non ero neanche degno di legargli le scarpe però e questo lo rende ancora lo rende ancora più grande anche Paolino Pulici allora Andrea grazie mille per essere stato qui con noi a raccontarci Gigi Riva grazie davvero e spero insomma di incontrarti presto è stato molto bello insomma conversare con te intorno a Riva grazie a te grazie a voi grazie un saluto a tutti buon lavoro e buona giornata intanto noi chiudiamo questa puntata con i Ramones questa e Pinehead grazie a te grazie a tutti grazie a tutti